Abbiamo visto entrare con le gambe un po' pesanti, con un po' di timore, poi via via avete preso il coraggio. Sì, è vero, è una vittoria importante che la cercavamo da tempo, finalmente è arrivata. E' detto bene, c'era magari qualche mio compagno un po' timoroso, eravamo tanti giovani rispetto alle altre volte, però sono contento di come abbiamo reagito, l'abbiamo interpretata come il mister ci chiedeva, palla lunga e battagliare fino al novantesimo. Notavo prima anche con l'ora che questa volta avete resistito in dieci, rischiando pochissimo, perché a parte due tiri, un salvataggio di Gennaro e quella rovesciata di Makogo, non avete rischiato niente dopo. Sì, infatti ci siamo chiusi bene, ma devo sottolineare lo spirito giusto di questa squadra che ha avuto, che anche in dieci non ci siamo disuniti, anzi abbiamo preso più coraggio e abbiamo portato a casa la partita. Ecco, è questa la strada giusta per sperare nella salvezza, per raggiungere l'obiettivo? Certo, abbiamo visto che comunque in altre maniere non ce l'abbiamo fatta, nemmeno con il gioco, e quindi battaglieremo ogni partita fino al novantesimo e poi chissà, se qualcuno ci vorrà bene ci salveremo. Ecco, e subito c'è una partita importante, come le altre, però forse sentite ancora di più perché c'è il derby, Padova che viene anche lui da una vittoria, stessa situazione in classifica, insomma che partita sarà secondo te? No, infatti dobbiamo recuperare l'energia, ricaricare le pile e noi più vecchi dobbiamo far capire ai più giovani che partita è, che è una partita diversa, che anche la società ci tiene, il mister, il direttore, la presidenza. È una partita particolare che va ben oltre alla salvezza, è una partita a sé, atipica, e quindi sarà la partita più importante, anche perché non sarà l'ultima spiaggia, ma perdere sarebbe un peccato.